Il carattere profondamente umano e la semplicità dei gesti esaltano la nobiltà delle figure. La Madonna sostiene il bambino con la mano sinistra, ben fermo sulle ginocchia della madre. Entrambi, con la destra, invitano il fedele ad avvicinarsi. Non poteva mancare una statua della Vergine nella Basilica Lateranense, madre di tutte le chiese. È l'8 dicembre dello scorso anno, solennità dell'Immacolata Concezione, quando le sue mura accolgono il dono di Papa Francesco alla Cattedrale del Vescovo di Roma, una scultura a linea fatta acquistare dal beato Paolo VI nel 1978, custodita fino a poco tempo fa nel Museo Storico Vaticano, oggi collocata nella parte destra del transetto. Tornata recentemente al suo splendore originario dopo un delicato intervento di restauro, questa statua policroma di scuola umbro marchigiana risalente al XIII secolo è impreziosita da una decorazione a foglia d'oro, luce che incornicia il volto della Vergine. Con noi l'archeologa Alessandra Milella. Questo gruppo ligneo della Madonna con il bambino in braccio è caratteristico per la posizione delle due figure che sono erette e hanno un atteggiamento di grande nobiltà, di grande portamento. Questo però non contrasta diciamo con invece un aspetto assolutamente dolce dei visi, in particolare del viso della Madonna. Questa statua arrivò nei Musei Vaticani e venne lì sottoposta, è stata sottoposta anche recentemente prima del dono di pochi mesi fa alla Basilica Lateranense, è stata sottoposta ad un restauro, un restauro che ha seguito sia diciamo le linee tradizionali sia è stato eseguito con moderne tecniche, in particolare con il laser che ne ha rispettato assolutamente tutte le caratteristiche originarie. Alle spalle della statua ligna, sopra la cattedra del successore di Pietro, brilla il mosaico absidale. Qui Maria invita il pellegrino a riflettere sul mistero della risurrezione, dal busto del figlio di Dio alla croce gemmata, rappresentazione della vittoria sulla morte. Arte cosmatesca, sculture, capolavori pittorici e dioreficeria. La sede del Vescovo di Roma è uno scrigno di tesori, la cui edificazione si deve all'imperatore Costantino intorno al 315, su uno dei luoghi simbolo della fine del regno di Massenzio e dell'inizio di una nuova era per tutto l'impero romano. Si trattava di possedimenti della famiglia imperiale, infatti proprio per questo motivo molto probabilmente Costantino, oltre al desiderio di non edificare come sua prima impresa edilizia il centro episcopale proprio al centro della Roma imperiale, che era ancora naturalmente pagana, decise di occupare questa zona che si trovava un pochino ai margini della città, ma in particolare si trovava su possedimenti demaniali, quindi su costruzioni, sotterreni di cui lui poteva tranquillamente disporre. Oltretutto in questa zona in particolare si trovava la caserma degli Equites Singulares, che era un corpo di guardia che durante lo scontro fra Costantino e Massenzio si era schierato dalla parte del suo avversario, quindi questo diede oltretutto la possibilità a Costantino di requisire la caserma, raderla al suolo e al di sopra di una parte di essa edificare appunto il complesso. Grazie. Grazie.